Beh, ragazzi, bentornati, qui Yoshi, e oggi siamo qui con la review e i pick hero, che se sto ricaricato, vi passa che ve le rimetto qua in mezzo adesso In realtà non è una brutta promo, secondo me, cioè, nel senso, sono uscite pure carte sim, toccavi del costo e il drop delle carte, assolutamente, però meglio dei altri che sono uscite, sono veramente delle merde A me questa non me dispiace, in realtà Ovviamente le carte, come al solito, sempre non ce stanno Simo Grazie per il sub, benvenuto No, vedi, va, dammi ginola, dai Buono, piastro park, va, fenomeno Butto con il club un giorno, fammi evoluzione Ma pure dopo Mmm, bello, però Io, qual è il sito? Quanti? Eh, non molti, Ale Cioè, non esagerate Ohhhh Ah, ma è arrivato Cap De Vila Ecco, grazie di build Ma spina ha già detto, beh, è normale Mezzo che mo ripierei Allora, o più Milito buttamo dentro in Builder O ripievo Cap De Vila che non si sa mai che a Scenar Traevo tutta pazza Ma sì, ma ripiega Cap De Vila sti cazzi, tanto Pio picchietto hero, va Beh, da direi Govoo Cioè, a meno che proprio non ci fanno cazzo e più overhaul Però Govoo è carina, bella carta Pio Govoo Beh, Hansen tutta la vita Fiamo Govoo che è forte Fuori Skorupski Come fare Skorupski Direi Ermoro Morientes Non penso ci siano troppi dubbi a riguardo Eh, sì, sì, pure a me Kirs uguale Ah, l'unico buono che gli è uscito Già c'ha io Certo potono buttarci pure le UCL qua in mezzo Tanto costo troppo Chi vuole ok, Gomez overhaul Gomez overhaul per lui E poi Porca troia Mamma mia che ropetta Bella ragazzi, vi ricordo sempre che se siete alla ricerca di crediti per gli EFC24 Scontati, veloci e sicuri Vi lascio il link in descrizione Con il codice sconto Yoshi Quindi mi raccomando Fatene ovviamente buon uso E in maniera intelligente Io vi do un bacione E ciao L'eroe base che c'è da De Bello Mascherano King e Vialli Beh, penso proprio che andiamo dei Vialli perché è 89 Mi sa, mi sa, ti invito per l'eroe Vida E poi prendi No, vuole scartarlo Matto Tiè, lo metti qua E Gino là Mamma mia sti picca, sono una disperazione comunque Il più forte di tre forse è Riccardo Carbaglio Tiè Roe Winter Io mi farei capo Cioè Non è che sarei tanto per Oddio, ho cocia carino però Tanto c'ha l'87 Derise Che cazzo c'è deve fa' Più coce almeno Più coce almeno Più pure lui Che Vabbè dai, rifatta la squadra Fa' un po' più variegato Questi eroi incredibili Li buttiamo dentro Che poi ho trovato Iai a base Da qui ce l'ho trovato Ah, Gov Beh, prenderei Gov A Gasbrer 88 Non si può vedere Gov ancora può giocare Poi 90 tiro 90 passate 90 dribbling Vabbè, sembra presto Poi aver segnato Manca nuora Inizio della partita Cooler Gomez Lui ancora può giocare L'ho provato Era simpatico Sennò se va dove roll Goal Era riederci Grazie Ti fa però sonno Per dire finesse Che ovviamente Sterling Non ha rosso Da dire rosso Oh, Carlitos Tevez Cioè Non è che sia Proprio tutto Sta un po' di roba Eh, sennò Papen Se vuoi fare roll Dimmi te Da chi stiamo Da Ok, da Matte Dici te Verso sti cazzi Ramos invece Qual è meglio? E ci dici Ma sembra veramente bello Ah, Rudy Feller Vabbè C'è sta dai Cioè C'è sta in parolone Però King Che mi sembra Un bidone Tutti e quattro Inemar Sono estinti Bella giocata La parte Beh, ti direi A meno che Mi prende L'overall Delizzer Asuma Non penso Alto Medio Questo E l'altro Non sa che c'ha Oh, vedi Guardate un po' Che troviamo L'altro che c'ha Alto Medio Carino 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 Dai 200k Sterling Quello Quello Sembra Forte Cacciatore Eh, per forza Cacciatore Di Mamma Anche Perché Per meglio Direi Lui Cambio Colt TS Base Con Avers È meglio Sì E Degli Ice And Fire Allora Cosa interessante Il Boost Dell'intesa Il Fire Dà 5 Punti Alla Propria Nazione Ok E Invece L'ice 5 Punti Al Proprio Club Quindi Sono carte Che partono A 2 Anche loro Stanno iniziando A capire Che c'è Bisogno Di carte Che linkano In maniera Migliore Ce so Ce so Arrivati Comunque Perché Il sistema D'intesa Lascia A parecchia Desidera E gli stanno Effettivamente Andando a Drizzata Con le icone Soprattutto E tutto Il resto Allora Evento Che Gli altri anni Mi ha fatto Cacare Fortissimo Era veramente Un evento Mediocre Sinceramente Ma proprio Per come era pensato E strutturato Per le carte Che erano uscite Quest'anno Sembra Un po' Meglio Non mi sembra Niente D'eccezione Però Carte Simpatiche Secondo me Ci sono Quindi Versus Fuoco Andiamo Neymar Che Attualmente Sta A 5 Milioni Allora Neymar Delle versioni Che sono uscite Speciali Quindi Considerando Anche il Tuono Se dovessi Scegliere Una carta Prenderei Il Tuono Perché È Rapido Oro Allievo di Playstyle Mi piace Molto Di più E perché Questo Costa 5 Milioni Che Insomma Non è Una cifretta Che te regalano A T Carta Della Madonna Sicuramente Non penso Che vedremo Qualche Carta Di Neymar Ai Toti A questo Punto Non c'è da Pensare Però Signora Signora Carta Di tranno Scambiabile 5 Milioni Sembrano Veramente Una botta Ok Che poi Ricordiamo Linkano In maniera Più Semplice Però Poi Abbiamo Son Sono Che hanno Messo L'R1 No Questo è Quello Col Finessoro L'R1 Oro È la Versione Ice Però Razzo Tecnico Rapido Bella Carta La mia Domanda Sorge Spontanea Che è sempre La stessa Però C'era Bisogno Di Rimettere Sempre Le stesse Carte Evento C'era Bisogno Di Rificare Neymar Dentro C'era Bisogno Di Rificare Son Dentro Che potrebbe Riuscire Anche Potme Della Premier League Non Credo Cioè Sinceramente Non Non Penso Poi Abbiamo Marta Marta Questa Versione È Però Vabbè Comunque Ce ne ha Tanti Trivela Grobata Cosa 390.000 Crediti Se non sbaglio Però Questa Versione Rispetto All'altra Che è Veramente Lenta Non è Male Poi Abbiamo Ramos Uscito Il DC Che Pure Questo Con Mastino Plus Ricordiamo Quei Ramos Flashback Era Veramente Forte 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 Però Secondo Me L'altro Col Progione D'oro È Meglio Anche Ramos Costa Un milione DC Questa È La Versione ATT Ed è Quella Interessante Secondo Me È Un 4 Di Skill 5 Di Debole Costo 500 Mila Crediti Builder Sembra Perché Allora Qual è Il discorso Tra le Due Versioni Le potete Faire Entrambe Per carità Però Farei Solo Questa Qui Che È Martinelli Poi Abbiamo Radeschi Non ho capito Perché Portere Ho diventato Tutti 3 De Skill Però Ok Parate Che i piedi Potrebbe Torna utile Poi Ma che c'è 70 De rinvio Ok De rinvio 3 Piers Whip At Padoro Passaggio Lungo Scivolato E l'ultimo Mi sono buttato Mezzo Al campo Secondo me Non è Malaccio Anzi Ma 91 Accelerazione Potrebbe essere Quanto costo 300 100.000 Dripper Ma che Sto matti In testa Una carta Da 50.000 Crediti Morata Power Shot Toro 4 4 Questo Sarà Scarto Quanto Stasto Morata 17.000 Poi abbiamo Kamavinga Questo Simpatico Questo Sembra Umberter Sio Sinistro Certo Pare Il gemello Stronzo De Mendy Perché Non è Che Cambi Molto A livello De Anzi Fendi Paghi Poco Kamavinga 220.000 Una Chance Si Potrebbe Età Che Poi C'ha L'R1 Fatti S Asa C'ha Blocco Affronta Mastino Carino Questo Per il prezzo Secondo me Ci potrebbe Stare Asensio Col Finesso 30.000 Crediti Ma sai che pure Questo Col Tecnico Lo Proverei Certo Poca Finalizzazione Però Questo 20k E Poi Niente Sotto Ci abbiamo L'Auriente Sissoko Spinazzola L'Auriente Sembra pure Una carta Simpatica Problema 78 D'agilità Playstyle Ci siamo Rapido Oro Se potrebbe Però Costa 13.000 Crediti Che fa Oltre Alla D Perfetto Il Ritorno Del Mago Sissoko Che E forse Me lo provo Me lo provo Questa WL Con Mastino Plus Intercetto Dichita Un sacco Di robetta Interessante E poi Spina Allora Spina Io ovviamente Uno dei miei Giacatori Preferiti Su Ultimate Team Impazzisco Per Spina La rosicata È che L'hanno fatto Quello bello Con 5 di skill Offensivo A destra Quindi nella Full Roma L'ho dovuto mettere Col punto esclamativo Per non giocarmi Quello che gioca a sinistra Che è 4-5 Invece Quindi lo so Gioca col punto Esclamativo Giocarlo Perché non posso Leva Carstorp E quindi Gioca con Con lui Sono molto contento Allora Poi abbiamo La versione Ghiaccio Secondo me È versione Fuoco Maggiù Parte dei casi Superiore Quasi per tutte Le versioni Rimettiamo I Costi Ok Allora 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 Neymar AS Con Fleroro Non Ci fanno un cazzo Con Fleroro Costa tre milioni e otto Sta bene Lo trovi bene Se non lo trovi Ciao Son Ecco Giusto questo qua Forse è un po' Più interessante Perché c'ha il tecnico oro questo potrebbe potrebbe essere veramente una bella una bella giocata trovarlo da c o c 87 di passaggio forse è giusto sto sonno un milione e due poi ci abbiamo questa marta è meglio l'altra sinceramente proprio perché non si muove è lenta è più lenta come carta eppure c'è meno dribbling trippier 4-3 alto medio c c ma piuttosto più ortersino metto c c cioè se devo spai costa comunque 3-10 cioè costa la stessa cifra poi abbiamo sterling che è quello che vi dicevo prima con l'illusionista è interessante il fatto che c'è tutti i playstyle sul dribbling praticamente però secondo me c'ha un costo troppo elevato cioè nel senso a sto punto preferisco veramente Martinelli a sterling se devo giocare una alla destra anche perché poi tiro e passaggio fanno cacare cioè non è che dici ok mi hanno fatto una carta di c o c di sterling con 90 di passaggio te dico c'è posta dai c o c invece no c'è stesso passaggio dalla punta Radecki è tornato eccolo qui non so due versioni che cazzo cambia effettivamente Sergio Ramos questo quello che vi dicevo costa quanto il dc però ragazzi cioè guardate il dribbling che c'ha come sono distribuite le statistiche 1 in meno di difesa un po' meno di fisico ma aggressività altissima alto alto come work rate che è pazzesco c'ha 3 d skill 4 è debole tanto dei giocacci come centrale e c'ha il progione oro cioè questo secondo me come dc switchato è un fenomeno anche l'altro non è forte a questo secondo me veramente ti sfonda poi è uscito Kama quindi no cazzo c'è stanno sia versioni ice migliore che fire sinceramente tipo Ramos e Son secondo me meglio ice poi dipende sempre per me quello che trovi perché andrà la pia sul mercato e perdeci una botta dei crediti predoti non è che sia una grande mossa a parte a parte ovviamente quelli che proveremo che so magari carte che te poi permette tipo morata tipo sisso con l'oriente spinassola bla 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 radeschi poi c'è butti dentro uno che magari costa un po' di più tipo quello sterling e via provati Kama simpatico ma secondo me ma perché correte più semplicemente perché ho l'altra versione che nevo che sta vicino a ste stats e nera sto giocatore incredibile morata con aereo plus forse frisco quello con powershot c'è forte testa plus asensio con l'r1 d'oro boh però l'altro correo e c'è pure il finest oro whip filtrante ma te posso dire non lo so ma a parte le so carte che costano talmente poca asensio 13.000 credit poi sissoco laurente e spinazzola sissoco molto simile all'altro un po' meno di difesa cassa forte oro anziché quello che c'è all'altro c'è un mastino oro laurente 4-4 col tecnico oro questo potrebbe essere simpatico l'unico problema per me rimane il dribbling e anche il tiro perché c'è un tiro di merda che stanno mettono dentro quelli che ho 100 spina questo qua c'ha affronta oro che in realtà se vai a vedere non è neanche male nel senso se tu devi andare a giocare e lo devi tenere dietro secondo me c'è sta qua affronta oro però quell'altro a livello offensivo l'ho anche già provato con 87 dribbling è molto fluido nei movimenti si muove bene e salta l'uomo a zero di inteso Sissoko no siamo tornati un bel colpetto di tosse per concludere il video e ci dovrebbe essere tipo uno Stuani negli obiettivi una roba del genere l'ho visto storyline Stuani eccolo dove sta faccia vedere sta carta ma che è 4-4 alto-basso pallonetto tecnico non è bruttissima pure sta carta ma guarda ti ripeto io a SFR pensavo molto pedo ci stanno carte effettivamente interessanti ci stanno il problema secondo me più grosso è che ci sono carte top tipo nei mareson che si ripetono quando potresti diventare magari qualcuno che non è top un top con playstyle tipo che te posso dire che ne so un prima laudaro martinez che è uscito il pot si muoveva stava ambalsamato gli fai una carta tutta bustata come un shield winter a suo tempo che era una carta simpatica e lo busti talmente tanto che diventa una carta da 2 milioni ma così lo fa con chiunque altro campionato anziché essere costretto a ributtare sempre gli stessi però per il resto pure sto Stuani posso dire pensavo peggio sembrava quasi simpatico aereo forte di testa plus questo che ci vuole per sbloccarlo che mezzo ci vorrei giocare eh tose vittorie vabbè questo pure se fa vabbè ragazzi ci vi do un bacione ci vediamo come al sole su twitch e ciao